Da quel finale di campionato che ha salvato il professionismo, si riparte da lì? Sì, assolutamente, è importante ripartire da lì perché è stata una bella partita, si è ricreato entusiasmo, è tornata un po' di gente allo stadio, quindi sicuramente è importante partire da lì, è normale che adesso con la nuova stagione si sarà tanto da ricreare, siamo tutti predisposti al lavoro, siamo tutti pronti ad ascoltare il ministro e quindi sarà sicuramente una bella stagione. E così parte da una base solida, adesso il messine del lavoro in corso si sta strutturando, però le prospettive sono decisamente buone, grande organizzazione, ritiro e due vicende. Sì, assolutamente, rientra tutto nella normalità, quindi avere tutto a disposizione e far sì che i giocatori possano lavorare bene, lo staff può lavorare bene, può imporre la sua metodologia, quindi c'è tutto per lavorare bene e cercheremo di dare il massimo per noi stessi, per il messine e per i tifosi.